ciao stai ascoltando the thanks book club il podcast del gruppo di lettura di gabriella giliberti e letture metropolitane io sono giovanni villani e mi occupo della post produzione visto che esistono già troppi podcast dove parlano solo maschi non vedo l'ora di ascoltare questa puntata prima di iniziare ti invito a seguire questo podcast in modo da non perdere i prossimi appuntamenti puoi trovarci anche sui social e unirti al gruppo di lettura cercando the thanks book club su telegram puntata 8 abbiamo sempre vissuto nel castello ciao a tutti e a tutte e a tutte di nuovo una nuova puntata del nostro podcast the thanks book club e oggi abbiamo scelto di parlare di un libro che abbiamo letto ovviamente nei giorni precedenti ma in realtà credo almeno nel mio caso riletto per la terza volta che è abbiamo sempre vissuto nel castello io sono fravia capone e con me c'è gabriella giliberti ciao a tutti e a tutte io sono sempre felice quando si parla di scrittrici donne perché ovviamente se ne parla sempre troppo poco però nel caso di shirley jackson visto che la volta scorsa abbiamo parlato di stephen king shirley jackson è proprio una uno dei suoi miti assoluti e giustamente perché dal punto di vista della scrittura dell'horror della paura shirley jackson è una maestra incredibile anche se questo libro corre un po sul filo del non detto come spesso succede per i racconti un po spaventosi le storie un po spaventose ma non diciamo immediatamente violenti o comprensibili perché appunto è una storia che si va costruendo intanto abbiamo il famoso narratore inaffidabile esatto il narratore che appunto non sappiamo quanto peso abbia nella storia stessa non sappiamo un po il punto vediamo un po perché un attimo il punto del perché perché il narratore in realtà di questa storia è la stessa protagonista la storia di abbiamo sempre vissuto nel castello ruota attorno a meriket blackwood che questa ragazza di 19 anni che vive insieme alla sorella costanz e allo zio giulian vivono in questa villa isolata dopo quello che è stato un incidente un avvelenamento che ha letteralmente decimato la famiglia di blackwood e blackwood da sempre sono stati visti in maniera malevola in realtà da tutto il resto del villaggio cioè l'isolamento fisico della casa è un riflesso dell'esclusione sociale che blackwood subiscono da parte degli abitanti del villaggio e meriket in modo particolare è molto risentita dal trattamento che la sua famiglia deve subire da tutti gli altri non a caso appunto questo isolamento non è unicamente una condizione imposta dall'esterno quindi da tutti gli altri dai vicini bensì è anche una scelta voluta dai personaggi stessi in modo particolare dalla stessa meriket che in realtà non ha voglia di avere nulla a che fare sente di non avere nulla da spartire con gli altri soprattutto perché lei si chiude in questa sorta di suo isolamento mentale soprattutto in quanto percepisce il mondo esterno in una maniera ostile e minacciosa quindi quando lei quelle due volte a settimana è costretta ad andare nel villaggio per poter comprare i viveri fondamentalmente per Costanz e per lo zio Julian tra l'altro lo zio Julian è anche molto malato noi vediamo attraverso i suoi occhi tutta questa descrizione di questa città di delle altre famiglie importanti che hanno poi costruito questa città e c'è sempre questo astio è un po' questo mix particolare fra ansia sociale quindi non alzare gli occhi, non rispondere, attraversa velocemente una cosa molto simpatica che meriket fa è come se fosse il gioco dell'oca lei ogni qualvolta che va nel villaggio è come se stesse giocando al gioco dell'oca e quindi ogni volta c'è l'imprevisto quindi resta su questa casella per due turni per esempio quando deve passare l'autobus perché ha la paranoia che l'autista possa investirla per esempio a volte è talmente tanto paralizzata da restare lì effettivamente bloccata al tempo stesso però c'è un orgoglio che le infiamma perché da una parte non vuole appunto un confronto con gli altri dall'altra parte però non vuole essere considerata da meno non vuole essere giudicata e quindi si sforza di seminare anche un po' di zizzania diciamo quando va dal droghiere a comprare le uova, il pane e quant'altro è come se istigasse un pochino tutte le altre donne facendo, dicendo cose che suscitano sempre un po' di tensione oppure andando costantemente a prendersi questo caffè nel bar ma senza poi berlo mai per davvero questa Mary Cat a parte una di noi sempre e comunque perché io mi ci ritrovo molto soprattutto quando aspetto che i vicini di casa prendano l'ascensore guardando da dietro alla porta per evitare di incontrarli io non vedo così tanta differenza insomma con Mary Cat no ma sai cosa mi piace tantissimo di Mary Cat? ci sono queste immagini adesso questa è una cosa inquietantissima un po' creepy da dire quei momenti in cui lei sogna e spera che tutti muoiano ma non così, no no, di una morte a croce nel peggiore dei modi quello dice morirai, morirai in sofferenza ecco lì è proprio quando effettivamente ti ritrovi nei panni di Mary Cat questa è anche una cosa molto diciamo da bambina a preadolescente nel senso che molti ragazzini anche senza avere contezza poi della gravità della gravità di un pensiero io mi ricordo che rifacevo queste cose a volte scrivo cose terribili sulle persone che mi stavano tipo ah devi morire perché è anche una diciamo un segno di istintività anche un po' infantile volevo leggervi una piccola parte che dà bene l'idea di quello che Mary Cat pensa del paese diciamo dove è collocata la sua casa i maschi del paese si mantenevano giovani spettacolando e le femmine invecchiavano aspettando in silenzio che figli e mariti tornassero a casa mentre una grigia stanchezza malvagia si impossessava di loro cioè questo è proprio il classico esempio della routine, dell'abbrutimento delle persone cioè lei si sente effettivamente superiore perché ha una vita diversa ed ha anche una capacità inventiva che pensa che gli altri non abbiano e quindi un movimento interiore probabilmente che un po' la mantiene in vita ora uscendo da Mary Cat che è chiaramente molto molto vicina alla stessa Shirley Jackson e ne parleremo poi con la nostra ospite piccolo spoiler la storia ruota attorno tutta quanta ad un luogo come succede diciamo spesso quando si tratta di storie dell'orrore e come aveva anche già fatto Shirley Jackson in L'incubo di Heath House in questo caso non è la casa diciamo la protagonista ma il modo in cui le protagoniste abitano la casa è molto importante la stessa Mary Cat fa tutta una serie di cioè ha un rapporto con gli oggetti molto interessante un rapporto quasi stregonesco anzi sicuramente lei dice io ho i poteri e quindi insomma è ossessivo e rituale esatto è rituale e utilizza gli oggetti come protezione soprattutto nei confronti della sorella della casa dello stesso nucleo familiare e cerca di utilizzarli come arma soprattutto quando arriva qualcosa a disturbare l'equilibrio che è questo cugino Charles che a un certo punto si presenta proprio il classico maschio alfa possiamo dirlo cioè che arriva e deve spiegare le cose e deve dire fai questo e fai quello cioè prende subito il potere e lei dice subito io che ho percepito che era cattivo la cattiveria è una cattiveria di ruolo cioè lui è un cattivo perché in quel momento sta rompendo l'equilibrio ed è un cattivo in fondo perché vuole dire a loro come si devono comportare sì sì assolutamente beh questo manifesta ancora di più questa chiusura che poi Mary Cat ha nei confronti di tutto quanto ad eccezione fatta poi di Costance e di Zio Julian perché in realtà quando noi poi facciamo il podcast ovviamente ci addentriamo anche in quei momenti un pochino più spoiler il fatto che tutti i Blackwood siano stati decimati non è un caso non è una disgrazia avvenuta per caso c'è una brutalità che in realtà una fragile brutalità la vorrei definire quasi che alberga all'interno della mente di Mary Cat che la porta poi a dissociarsi a un punto tale da fare cose che tecnicamente quasi non ricorda per poi venire effettivamente protetta in modo particolare dalla figura di Costance che è una giovane donna che vive di sensi di colpa anche lei si autoisola perché si prende una colpa tra l'altro e si chiude con la sorella in questo letteralmente in questo castello però in questo caso il castello ha proprio una dimensione estremamente metaforica e secondo me qui è che agisce lo stile narrativo le tecniche utilizzate da Shirley Jackson che costantemente sembra sempre di muoversi sospesi nel tempo e nello spazio dove è impossibile definire veramente ciò che è reale da ciò che non lo è poi anche questo è una cosa tutto il simbolismo che effettivamente lei utilizza quindi la casa dal luogo di sicurezza diventa un guscio isolante per esempio oppure gli oggetti come tu prima parlavi sepolti da Mary Cat che sono anche un po' il suo tentativo di esercitare un certo tipo di controllo sugli altri questo lo vediamo molto poi con la figura del cugino c'è anche tutta una questione che riguarda di più il femminismo e la critica sociale che poi è tipica effettivamente della scrittura di Shirley Jackson la rappresentazione delle sorelle Blackwood può essere letta come una critica alla società patriarcale e alla posizione subordinata poi delle donne e Mary Cat e Costance sfuggono a queste norme sociali creando un mondo tutto loro che quindi esclude il potere maschile quel potere maschile che però una volta che viene messo alle strette e si sente privato del suo potere che gli spetta di diritto in quanto uomo in quanto nato uomo ovviamente tende a reagire in una maniera anche molto violenta in una maniera prepotente e questo ovviamente porta poi a uno dei climax principali all'interno del libro che fa esplodere ancora di più la narrazione le tesi infatti brava nel vero senso della parola che e ovviamente crea una frattura ancora più profonda nella mente della protagonista c'è un un altro elemento che un po' anche lui trova il suo climax nell'evento diciamo che hai più o meno citato tu che è il giudizio c'è un po' un discorso che mi ha ricordato non dico frankestin ma del paese avete presente la classica immagine che vedete anche negli horror più beceri però ambientati nei paesi un po' folk del paese con i forconi e il fuoco che vanno a stanare il mostro il senso è quello a un certo punto questo paese che comunque sente il bisogno di categorizzare tutta la famiglia e Constance in particolare in quanto considerata colpevole della insomma dell'uccisione del resto della sua famiglia e vive come spesso succede anche nei romanzi di King vive del male che pensa di queste persone si nutre la popolazione quasi muore dalla curiosità e dalla voglia di dare delle colpe quando Mary Cat ha l'ansia che ci siano persone che si aggirano nel giardino e che guardano dalle finestre dicendo è lei è lei l'ho vista l'ho vista quella da una parte è una sua ossessione ma dall'altra è la realtà cioè la realtà di persone che non possono fare a meno di trovare il proprio mostro cioè il mostro da accusare il mostro da mettere in prima pagina il King Kong da mettere dentro la gabbia il non lo so appunto Frankenstein da bruciare vivo e questa cosa è non a caso poi sono due donne anzi una donna in particolare che diventa questo mostro un po' anche come le streghe sul roco e quello secondo me è un elemento molto importante del libro il fatto il rapporto fra interno e esterno e il giudizio degli altri il giudizio degli altri su quelli che la società considera mostri certo nonno io sono completamente d'accordo con te è interessantissimo soprattutto e per me rimanda completamente alla figura di Frankenstein a un'altra grande autrice del gotico che è Mary Shelley anche questo secondo me non è assolutamente un caso l'ossessione che è tipica ancora della nostra società e questa è la cosa drammatica l'ossessione di trovare un mostro magari non è il mostro perché questa è la vera differenza ma un mostro un carnefice io noi lo possiamo notare spessissimo con quelli che sono i casi di cronaca l'ossessione nel trovare il colpevole rende la società una società di base malata come la nostra comunque talmente tanto paranoica e talmente tanto ossessionata da sviluppare non solo poi quello che è il voyerismo orrorifico no quindi si è affamati di questo orrore che ci circonda tanto comunque fino a quando non tocca a me va tutto bene ma al tempo stesso ossessionati dal trovare un colpevole a tutti i costi e non si diventa più innocenti fino a prova contraria bensì colpevoli fino a prova contraria quindi va bene chiunque letteralmente tant'è che spesso vediamo anche come prima il colpevole è quella persona poi in realtà è un altro quindi mannaggia poverina quella persona e quindi adesso spostiamo tutta la nostra attenzione su quell'altra persona cioè anche il risvolto come l'opinione mediatica cambia no in continuazione poi anche il far diventare la vittima il carnefice il carnefice la vittima è molto significativo purtroppo è drammatico all'interno del nostro mondo è il mese di novembre è appena passato il 25 novembre sappiamo che è una giornata molto molto importante ma anche una giornata profondamente dolorosa e triste perché è la giornata contro la violenza nei confronti delle donne da parte degli uomini letteralmente e quindi ogni anno è estenuante questo counter che va avanti che va avanti che va avanti sulle vittime di femminicidio e continuiamo a leggere però se si fosse comportata così però se si fosse vestita così però se non avesse fatto questo cioè è un continuo colpevolizzare la vittima e quasi sempre la narrazione sul carnefice è quella di un pentito di qualcuno che non si è reso conto viene raccontata la solitudine del carnefice queste cose no che uno dice è una cosa terribile anche il concetto è quello che il mostro deve corrispondere a un canone cioè il mostro deve essere comunque come vogliamo noi deve essere lo individuiamo in base a delle regole e quindi è un mostro che in questo modo noi possiamo comandare controllare cercare di distruggere quello che fanno le persone del paese è quello di decidere a prescindere che quella quelle ragazze Constance ma anche a questo punto tutto il nucleo familiare sono colpevoli innanzitutto colpevoli di non averli accettati colpevoli di sentirsi diversi diverse colpevole di sentirsi superiori ed è questo che scatena la violenza perché loro non accettano di rientrare nel canone del mostro e quindi non piegano la testa come succede alle donne in generale no? Certo alle streghe esatto alle streghe esatto esatto e tornando diciamo alla dimensione più sovrannaturale leggevo qualche commento sul nostro gruppo di lettura su Telegram vi ricordo che se volete anche partecipare alle discussioni potete iscrivervi al gruppo Telegram di The Fanks Book Lab e commentare con gli altri lettori e lettrici il libro del mese o i libri precedenti qualcuno diceva in effetti mentre lo leggo mi sembra più un giallo ha questa sorta di modalità devo vedere come finisce mi aspetto diciamo un capovolgimento finale mi aspetto una cosa e in effetti il modo in cui procede il ritmo in cui procede questo romanzo è molto particolare perché è un ritmo di quotidianità è un ritmo scandito dal tempo di Mary Cat è un ritmo scandito da oggi è il giorno che puliamo casa oggi è il giorno che facciamo il giardino ed è un po' anche un ritmo che secondo me prende forse un po' in giro anche la routine femminile tipica oggi prepariamo il pranzo come se da una parte Shirley Jackson che diciamo non era affatto visto che lei tra l'altro si occupava di articoli sulla vita domestica che è una cosa che mi fa sempre molto ridere quando ci penso lei era famosa per questi racconti diciamo sulla vita domestica che lei è riuscita poi in alcuni casi a capovolgere e trasformare perché niente fa più paura di una routine domestica alla quale sei costretta e che ti imprigiona che oggi devo fare la lavatrice se ci pensi è abbastanza insomma significativo e nel caso di questo libro questa routine come dicevi anche tu ti imprigiona e tu non sai più ma la stiamo ancora vivendo questa situazione siamo come dice zio Julian ma è successo veramente sarà successo davvero si è successo davvero zio Julian però è come se fosse appunto un ritmo onirico che lì per lì se non lo cogli subito ti lascia un po' perplesso e poi cresce cresce nella sua forza e da un certo punto in poi capisci perfettamente dove Shirley Jackson stava andando a parare anche perché la Jackson è letteralmente la maestra del non detto cioè lei lascia diciamo questo compito ingrato tra virgolettoni al lettore di riempire quelli che sono gli spazi vuoti della narrazione no? e quindi in questo caso per dire chi ha ucciso effettivamente i Blackwood oppure anche mi viene in mente in Laus cercare di capire se effettivamente Hill House è maledetta oppure no o se si tratta unicamente della suggestione di chi sta vivendo all'interno di Hill House ha sempre questo modo effettivamente di trascinarti di mantenere alta la tensione senza mai esplicitare se non fino all'ultimo poi qual è effettivamente la magagna dietro a tutto ciò in questo caso viene esaltato ancora di più dal mio punto di vista proprio da questa combinazione di elementi fra vita quotidiana e orrore sottile psicologico che probabilmente l'enfasi totale ce la dà proprio il fatto che venga raccontato da Mary Cat che sia a 19 anni ma alla mente proprio di una bambina perché il modo in cui le racconta come giustamente dicevi tu oggi facciamo giardinaggio oggi a pranzo facciamo questo io prenderò quest'altro sono proprio quei tipici piccoli pensieri molto molto semplici fatti dai bambini io adesso prendo questo e poi faccio quest'altro e poi faccio quest'altro ancora la routine per i bambini è fondamentale se gli sposti la routine il bambino impazzisce gli viene proprio la crisi isterica ovvio no no assolutamente ma anche perché è proprio quello poi che porta a un certo punto Mary Cat a perdersi ancora di più perché poi fondamentalmente parliamo di un personaggio già fortemente spezzato è un personaggio dissociato completamente dalla realtà anche per fuggire poi quando l'attaccano direttamente da un punto di vista verbale o quando i bambini dei vicini canticchiano le canzoncine inquietanti lei che sogna di vivere sulla luna di parlare un linguaggio tutto suo cioè è letteralmente in un'altra dimensione in realtà Mary Cat c'è un'altra componente molto molto interessante che avevo già riscontrato in altri scritti di Shirley Jackson che è l'ironia ci sono delle scene in questo libro che a me fanno proprio ridere a cuore aperto c'è per esempio una scena abbastanza iniziale quando viene a trovare va a trovare le sorelle una loro diciamo amica tra virgolette portandosi dietro a sorpresa un'altra amica un'altra donna chiaramente una curiosa morbosa di cui parlavamo prima che voleva vedere da vicino le protagoniste del crime cioè è come quelli che vanno davanti alla casa di Avetrana cioè più o meno nel senso è quello e c'è questa scena incredibile a parte che zio Julian si mette a raccontare tutta la vicenda no perché perché lui poi sta studiando questa famosa cena finita in tragedia cercando di dargli una forma anche letteraria fa proprio uno studio anche scientifico e si mette a raccontare i dettagli ed è un crescendo di disagio in cui appunto sembra di stare lì e fa anche molto ridere e vi volevo leggere una parte Costanz sedeva perfettamente composta si alzò sorridendo e disse che era felice di vederle Ellen Clark goffa per natura riuscì a trasformare il semplice atto di entrare in una stanza e sedersi in un complicato balletto per tutte e tre ancora prima che Costanz avesse finito la frase aveva spinto Mrs. Wright come una palla da biliardo facendola sbandare fino all'angolo opposto della stanza dove la poverina crollò di botto e in modo del tutto involontario su una scomoda poltroncina rischiando di rovesciare il tavolino da te poi puntò il divano dove stava Costanz e sebbene nella stanza ci fossero un bel po' di poltrone e un altro divano alla fine si sistemò precariamente di fianco a mia sorella che non sopportava nessuno accanto a parte me cioè ma questa scena non vi sembra una roba tipo quando i Griffin si dimenticano come ci si siede è una cosa meraviglia cioè queste che sono talmente imbarazzate che non sanno come si devono sedere allora una spinge l'altra io ho raccontato con una grazia che io trovo veramente incredibile è fantastico proprio il potere di Shirley Jackson sì 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 ed è tutto un po' costellato di queste parti ironiche soprattutto diciamo nella prima metà poi dopo diventa più cupo però ecco questo modo anche un po' di scherzare come dicevi tu di provocare tutte le volte che vanno delle persone a mangiare ovviamente vivono nell'ansia perché pensano se Costanz è colpevole veramente io sono fregato lo stesso Charles alla prima colazione sta lì con questa frittella in mano e dice ma la mangio o non la mangio o non la mangio sì sì infatti è rischio se non la mangio però faccio una figuraccia e questo è un po' divertente perché è un po' buttare giù tutte le regole anche del bonton lo scoprire le carte fammi vedere cosa pensi veramente di me se hai paura di me fammelo vedere fammi vedere cosa pensi mostrati sai io credo che la vera rivoluzione dal punto di vista stilistico e narrativo fatta da Shirley Jackson nei confronti del gotico è che lei ha sostituito poi l'orrore sovrannaturale con l'orrore psicologico perché appunto in una situazione così assurda come quella di essere a colazione in una casa dove tre quarti della famiglia è stata decimata dall'avvelenamento è ovvio che subentra dentro di te la paranoia del ma quindi anche questa cosa sarà avvelenata ma quindi posso mangiarla è un errore psicologico ed è quello che poi un po' succede a tutto quanto il villaggio è quello che leggiamo anche in il Laus perché al di là dell'atmosfera della suspense in generale però non è tanto il discorso del fantasma in quanto elemento appunto sovrannaturale che esce dalle pareti parliamo più di fantasmi interiori parliamo più di legarsi ad un luogo tanto da possederlo no? tanto da radicarsi in un modo tale da non poter lasciarlo più andare da infestarlo ecco perché poi in realtà il discorso non è che la casa le case in questo caso nascono infestate sono le persone che ci abitano ad infestarle certo e diciamo poi senza andare troppo nello specifico il finale dimostra anche un po' che il luogo si fonde con le persone anche fuori dalle al di là delle condizioni fisiche del luogo stesso cioè i luoghi sono comunque sempre abitabili anche se possono sembrare inabitabili è una questione di scelta se si sceglie di rimanere si sceglie di rimanere a quelle condizioni allora io direi di dare spazio alla nostra ospite di oggi se sei d'accordo Gabriella sì penso proprio che sia arrivato il momento per la puntata dedicata abbiamo sempre vissuto nel castello di Shirley Jackson è con noi Alessandra Castellazzi traduttrice e editor di Nero Edition ciao Alessandra ciao ciao a tutte grazie per essere con noi oggi io mi sono proprio imbattuta in un tuo articolo su Shirley Jackson e sono rimasta molto colpita e mi sono detta lei deve essere un'appassionata e mi sembra interessante insomma ascoltare e sentire la sua opinione su questo libro e poi tu mi hai detto guarda questo è il mio preferito di Shirley Jackson e quindi ho detto beh perfetto ci siamo ci siamo trovate e la prima domanda che ti voglio fare è proprio legata a Shirley Jackson perché ne abbiamo già parlato anche con Gabriella nella prima parte del podcast la protagonista di abbiamo sempre vissuto nel castello Mary Cat ha tanti punti di somiglianza di vicinanza con alcuni tratti di Shirley Jackson che tu poi racconti anche in questo articolo che si intitola tra l'altro se lo volete cercare poi magari vi mettiamo il link Shirley Jackson diceva di essere una strega mi racconti un po' appunto quali possono essere questi punti di contatto e anche come tu hai avuto a che fare per la prima volta con Shirley Jackson abbiamo sempre vissuto nel castello è stato il primissimo libro che ho letto di Shirley Jackson e mi è piaciuto l'impazzire dopo aver letto questo libro ai tempi dell'università quindi direi intorno al 2012 una cosa del genere Adelphi non aveva ancora ricominciato a pubblicarla con con la costanza di adesso diciamo ho letto questo libro mi è piaciuto tantissimo avevo recuperato subito dopo l'incubo di Hill House storia di fantasmi incredibile e quando è uscito Paranoia per Adelphi ovviamente mi sono fiondata subito a leggerlo ed è stato molto interessante trovare tutto il retroscena della vita e della scrittura di Shirley Jackson che era un po' quello che raccontavi cioè che ci sono molti più punti in contatto tra come lei viveva le sue giornate come lei intendeva la scrittura come una pratica veramente che permeava ogni suo gesto ogni suo momento durante la giornata e alcuni aspetti di questa pervasività nei suoi personaggi faccio un esempio un po' più puntuale per per spiegarmi in Paranoia è una raccolta di di suoi scritti ritrovati anni dopo in una cassa abbandonata in una soffitta e spediti al figlio di Shirley Jackson da quel momento è iniziato un processo di curatela di questi scritti e in Paranoia ci sono quindi tanti retroscena sulla sua vita sulla sua frustrazione di essere una casalinga in una cittadella universitaria molto piccola mentre suo marito era il professore che poteva uscire nella società eh poter esprimere il suo intelletto e vederselo riconosciuto mentre lei stava a casa a badare a quattro figli a tenere in piedi eh la l'economia domestica pulendo e cucinando in sostanza e accontentandosi di scrivere degli articoli eh per delle riviste femminili poi aveva tutto questo lato invece che possiamo definirei oscuro mh semplicemente perché amava scrivere dei racconti dell'orrore in sostanza ehm e che esprimeva anche nella sua vita quotidiana mi ricordo in Paranoia c'è un racconto divertentissimo in cui lei racconta come si faceva passare le sue giornate ehm molto molto frustranti immaginando una realtà parallela quindi vi leggo un pezzettino molto breve ehm di questo racconto di questo scritto che si intitola La vera me inizia vivo in una vecchia casa umida con un fantasma che cammina rumorosamente in quella stanza in soffitta dove noi non siamo mai entrati e la prima cosa che ho fatto quando ci siamo trasferiti qui è stato disegnare simboli magici a carboncino sulle soglie e sui davanzali delle finestre per tenere fuori i demoni in generale ha funzionato questo tipo di pensiero magico è lo stesso che a Mary Kat in abbiamo sempre vissuto nel castello con tutti i suoi piccoli amuleti e i suoi sortilegi per sentirsi protette dal paese minaccioso invece che sembra assediarle da fuori una cosa interessante nell'articolo che prima citava Flavia perché tu a un certo punto parli di una caratteristica stilistica di Shirley Jackson che sono le parole come aio e Shirley Jackson è considerata una pioniera nel rinnovare il genere gotico prima ne stavamo parlando e dicevo proprio del fatto che lei sostituisce il sovrannaturale con quello che invece è un orrore più psicologico quindi a te chiedo cosa vuol dire effettivamente parole come aio e quali sono dal tuo punto di vista gli aspetti che ritieni poi più innovativi e significativi dello stile di Shirley Jackson sì è stata sicuramente una rinnovatrice innovatrice del genere tanto che forse probabilmente l'avete citato nella parte precedente Stephen King la considera una sua maestra e noi a nostra volta consideriamo Stephen King un maestro dell'orrore secondo me è molto interessante la prospettiva che adotta Shirley Jackson nel raccontare le sue storie di fantasmi e soprattutto le sue storie dell'orrore del male quello che vogliamo e le sue protagoniste ha sempre questa visione questa prospettiva che al tempo stesso che è fintamente onnisciente nel senso che per esempio abbiamo abbiamo sempre vissuto nel castello il primo paragrafo che è un inizio incredibile in cui c'è la protagonista che racconta in prima persona che parla in prima persona dice il suo nome dice quanti anni ha dove vive e come sta accosta particolari che sono che sembrano appunto molto razionali come nome cognome età luogo di residenza ad altri che invece sembrano totalmente casuali e non così importanti come ci aspettiamo per esempio le mie passioni sono mia sorella Riccardo Cuor di Leone e la manita falloi del fungo mortale e poi subito dopo dice gli altri membri della mia famiglia sono tutti morti che è un inizio di libro pazzesco perché ti mette subito l'attesa di questa non sai se questa morte arriverà nel corso del libro e ti racconterà quella se è già avvenuta non sai bene che cosa trovarti davanti e soprattutto questa mescolanza di particolari che lei mette tutti sullo stesso piano di importanza inizia a crearti un'attesa come lettrice come lettore di che cosa mi troverò davanti quali saranno i particolari a cui dovrò prestare attenzione quali saranno quelli veramente importanti e quali no e questa sovversione delle gerarchie di importanza è una cosa che si riscontra spesso in particolare in questo libro perché appunto la narratrice è una narratrice inattendibile quindi bisogna anche cercare di immedesimarsi nel suo pensiero nella sua psicologia per cercare di capire quali sono le cose vere quali sono quelle false quali sono le incongruenze dove ci vogliono portare e questo crea una tensione narrativa pazzesca una tensione narrativa tra l'altro lei si dimostra maestra anche nella lotteria che è il suo racconto breve più famoso che inizia sempre con questa atmosfera con un'atmosfera idillica da giorno di festa che pian piano si trasforma in una cosa completamente diversa questa sovversione delle aspettative che crea disorientamento attesa e anche un po' una voglia in chi legge di cercare di arrivare a fondo e di capire quali sono gli spettri e quali sono invece gli oggetti che esistono veramente qual è la realtà qual è l'invenzione la paranoia la fantasia secondo me è quello che rende i suoi i suoi racconti i suoi romanzi a 60 anni di distanza freschissimi ancora sicuramente sicuramente vero e una domanda da traduttrice non so se hai avuto modo di leggere Shirley Jackson in originale la traduzione che abbiamo letto noi penso sia la stessa vostra insomma di Monica Pareschi per Adelphi che tipo di ripeto non so se ti è capitato di leggerla in originale ma secondo te diciamo cosa si percepisce anche nella traduzione proprio dal punto di vista linguistico nel modo che ha Shirley Jackson di condurre la storia e quali sono se ti è capitato di tradurre altre cose horror questo non so se ti è successo quali possono essere magari delle difficoltà o delle peculiarità guarda purtroppo non mi è ancora successo di tradurre degli horror anche se mi piacerebbe tantissimo ok allora secondo me una la primissima volta che l'ho letto è stato è stato in inglese appunto è stato tanti anni fa quindi secondo me non avevo ancora la sensibilità poi di capire fino in fondo le difficoltà di traduzione il il tessuto proprio del testo direi però riprendendolo in mano prima di di questa nostra chiacchierata ho pensato che una delle cose più difficili in questa traduzione era sicuramente tenere il tono di Mary Kat perché questo personaggio è una diciottenne quindi una persona in età adulta che però ha tantissimi comportamenti da bambina da 12enne potremmo dire oltre a queste sue manie per gli incantesimi per gli amuleti per creare una protezione magica attorno alla alla sua famiglia e alla e alla sua casa anche nel modo di esprimersi ha delle paure e dei ragionamenti un po' infantili e quindi è molto difficile cercare di rendere questa discresia se vogliamo tra un personaggio che noi sappiamo essere diciottenne a cui è stata prestata la voce da una scrittrice matura adulta che sicuramente ha fatto attenzione a inserire a utilizzare un lessico che rendesse evidente questa frizione tra la sua età anagrafica e la sua età emotiva e quindi in traduzione è molto difficile e bisogna fare molta attenzione a cercare di rendere questa stessa attenzione per il lessico secondo me soprattutto per le sue strutture di pensiero è interessante che ci ho pensato adesso che il il cugino quando arriva questo famoso cugino si rivolge a lei come una bambina e dice proprio a un certo punto ma io ci so fare con i bambini come se ci fosse una sorta di tacito accordo in famiglia sul fatto che lei è rimasta quella di sei anni prima quindi del giorno del disastro della tragedia e gli parla proprio gli fa quelle battutine un po' minacce tipo ma lo sai che succede se non mi tratti bene in un modo veramente un po' inquietante a quel punto inizia a diventare veramente inquietante sì e tra l'altro io mi sono resa conto che nel mio ricordo di questo libro prima di riprenderlo in mano Mary Cat aveva 12 o 13 anni non mi ricordavo che fosse adulta e visto che è proprio nelle prime righe invece lo dice subito mi chiamo Mary Cat ho 18 anni questo è un elemento molto forte e anche che introduce comunque un'inquietudine in tutto il corso del romanzo di questa adulta bambina rimasta ferma all'età diciamo che poi ha segnato il resto della sua vita ed è un dettaglio che crea che contribuisce alla tensione all'inquietudine che serpeggia in tutto il romanzo e che poi appunto da un certo punto in poi diventa molto più manifesta c'è anche questa ossessione di trasformare tutto quanto in gioco il fatto di quando lei va al villaggio e c'è questo ritorno del gioco dell'oca oppure anche il dissociarsi costantemente dalla realtà il modo in cui lei inquadra tutte le altre persone quindi c'è anche questo insomma doppio modo di osservare il mondo che la circonda da una parte lei che quasi si sente superiore vuole comunque dare costantemente mostrare questo coraggio dall'altra parte invece non vuole nemmeno mescolarsi con gli altri è terrorizzata da tutto ciò che è all'esterno poi appunto del castello o meglio di di questa casa che in realtà è poi metafora di una prigionia mentale di una dissociazione della realtà nella quale si rifugia letteralmente Merrickat e che viene alimentata anche dagli altri il comportamento del cugino non è poi troppo diverso secondo me in una maniera ovviamente esplicata in modo completamente opposto però non è troppo diverso dal senso di protezione che esercita Costanz per esempio nei confronti di 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 Merrickat sì tra l'altro è interessante perché è l'unico personaggio sembra il personaggio più prigioniero delle delle sue fantasie e tra il tempo stesso è l'unico della famiglia che continua a mettere i piedi a mettere i piedi fuori casa che si avventura due volte alla settimana nel paese si capisce che le richiede uno sforzo immenso però è come se si facesse carico della famiglia in in questo senso sono la persona che vi porterà che farà la spesa e prenderà i libri in biblioteca ogni settimana e ve li porta qui sono l'unico contatto con con l'esterno perché poi c'è lo zio in sedia a rotelle e c'è Constance che soffre di un'agorafobia devastante di cui tra l'altro ha sofferto pure Shirley Jackson in un punto della sua vita quindi un'altra sovrapposizione tra diciamo la la biografia e i personaggi e la cosa che che a me colpisce molto di di quel racconto del giro in paese con la sovrapposizione di un di un gioco dell'oca ipotetico e che si passa in un attimo dalla parte giocosa ludica e e che effettivamente è un tratto dei bambini non so quando ogni tanto quando cammino per strada mi accorgo che ci sono i bambini che magari cercano di camminare non calpestando le fessure diciamo dei mattoncini del cordolo del marciapiede che si fanno questi giochi e lei in quel tratto è molto molto infantile si cerca di per farsi forza di immaginare costantemente delle situazioni idilliache che la rendono felice quindi in questo giro in paese continua a immaginare il momento in cui tornerà a casa e porterà a qualche resta della sua famiglia i frutti della 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 sua avventura in sostanza quindi prende un croccante alle mandorle per lo zio per farlo felice le uova che Constance ha dimenticato di mettere sulla lista della spesa quindi c'è dell'orgoglio anche in questo di essere la persona che da fuori porta dei doni diciamo poi ci sono delle visioni devastanti e violentissime di quello che lei vorrebbe fare agli abitanti del paese che la trattano male ed è veramente una frizione tra questi due lati l'immaginazione sua che prende una piega giocosa e un attimo dopo invece furibonda proprio furiosa violentissima l'immagina non stiamo spoilerando niente perché è proprio l'immagina morire in preda alle più atroci sofferenze immagina di essere la vendicatrice che un giorno arriverà e farà piazza pulita di tutti gli abitanti del paese e risparmierebbe soltanto quella che si è mostrata vagamente gentile con lei che è la che è la barista da cui prende il caffè ogni volta anche lì come proprio una dimostrazione di io sono coraggiosa mi sento iper a disagio in questo paese non vedo l'ora di ritornare nella sicurezza della della mia dimora diciamo però mi fermo qui a prendere un caffè per far vedere che comunque ci sono c'è questo andi rivieni tra l'insicurezza anche l'arroganza che è un altro tratto infantile se vogliamo sentirsi molto insicuri indifesi un momento e il momento dopo invece potentissimi e capaci di fare qualunque cosa quindi qua la costruzione mi sono resa conto riprendendolo che la costruzione proprio iniziale in cui lei mette le basi di questa storia è fatta con un talento e con un e con un pensiero incredibile mette subito le fondamenta della storia tra l'altro questo modo diciamo di comportarsi di Merricket ci permette di aprire un'altra linea diciamo della storia del discorso che è quella legata ai ruoli e al giudizio degli altri ne parlavamo anche prima con Gabriella questo è un libro che in realtà fra i vari livelli di lettura forse ci può far riflettere un po' sul modo in cui la società giudica innanzitutto le donne ma anche chi decide di essere diverso da un canone ma anche chi la stessa società ha bisogno di assurgere al ruolo di mostro e quindi quello su cui scaricare la propria rabbia e anche la propria vergogna per essere forse noi stessi a volte dei mostri e su questo che cosa pensi tu? Sì sono d'accordo in tanti romanzi in tanti racconti di Shirley Jackson c'è questo sguardo in alcuni inizia come uno sguardo giudicante poi spesso si trasforma in molto peggio cioè proprio in azioni contro il contro il diverso e e qui secondo me si possono fare diversi livelli di lettura c'è sicuramente la la sua sofferenza personale nel nel vivere diciamo biografica quindi sto parlando della sua della sua vita nel vivere in questo a Bennington un piccolo una cittadina universitaria nel Vermont in cui lei si sentiva molto giudicata la sua famiglia si sentiva molto giudicata perché erano gli intellettuali venuti da fuori suo marito era ebreo lei era un'eccentrica e non faceva nulla per nasconderlo anzi ne faceva un punto d'orgoglio e a questo proposito ho visto qualche anno fa mi sembra 2020 un film che è il film che è la Shirley che parte eh sì sì ne avete già parlato no no ancora no c'è l'attrice ora Gabriella che è la mia memoria cinematografica si ricorderà come si chiama l'attrice bravissima è l'attrice del racconto dell'ancella del racconto dell'ancella ah Elisabeth Moss Elisabeth Moss esatto e quello fa vedere bene eh questo aspetto di sofferenza e di claustrofobia nel vivere in un posto dove ti senti costantemente giudicato e ehm lì vabbè punta moltissimo su eh abuso di abuso di alcol eh rapporto con il cibo ossessivo che si tramuta però diciamo nella potenza della della sua scrittura quindi c'è sicuramente un livello di insofferenza diciamo eh della vita nell'America rurale se vogliamo eh che poi è anche quella che fa da sfondo alla lotteria però secondo me c'è anche moltissima sofferenza eh di una donna con una grande forza intellettuale e una grande voglia di esprimerla che deve fare la casalinga eh e anche questa dimensione della casa che torna continuamente e che diventa un po' da un lato il porto sicuro ehm contro diciamo un esterno che giudica e che fa paura e che eh passa anche all'azione distruggendo in vari casi questo spazio sicuro sia a sua volta eh una prigione forse si capisce di più questo in il house dove la casa a sua volta diventa un posto minaccioso e che ti tiene ancorata eh a sé non ti vuole lasciare andare non ti concede uno spazio esterno e questa tensione eh si rivede in secondo me ne abbiamo sempre vissuto nel castello si rivede benissimo il polo sicuro ma anche eh uno spazio chiuso e limitato dove ti puoi l'unica eh via di fuga che ti puoi concedere è quella dell'immaginazione e quindi Merrickat con questa immaginazione ultra eccitata ultra potenziata che non si ferma mai e vede anche pericoli e sospetti alcuni giustamente li vede e questa grande paura di un cambiamento incombente ehm io ci rivedo molto della sua della sua frustrazione personale della sua anche depressione strisciante in questo in questo approccio alla casa e di contro come dicevate voi alla società che diventa mostruosa di certo non è un rapporto pacificato e non trova mai soluzione eh nei suoi scritti diciamo e neanche nella sua vita purtroppo certo l'altro c'è una cosa eh interessantissima che dice Shirley Jackson e che riporti anche tu ed è dice che la cosa più bella dell'essere una scrittrice e il poterti permettere no di abbandonarti alla stranezza quanto vuoi che secondo me riflette tantissimo quello che hai appena detto appunto trovare nella scrittura e in questo caso in modo particolare probabilmente col personaggio di Mary Cat un porto sicuro dove va bene essere gli strani no va bene essere il freak l'outsider della della situazione perché appunto in quel tipo di di contesto in quella sospensione della della realtà te lo puoi effettivamente permettere come direbbero i giallisti scrivere gialli e thriller ti permette di toglierti qualche sassolino dalla scarpa senza però poi avere la fedina penale sporca ecco perché piaceva tanto a Stephen King esatto in effetti più outsider di lui penso pochi al mondo insomma sì sì i weirdos i weirdos che si tolgono i sassolini dalla scarpa bello grazie mille ad Alessandra Castellazzi che è stata con noi per parlare di abbiamo sempre vissuto nel castello e ovviamente se avete letto il libro volete commentarlo c'è il nostro gruppo telegram The Fangs Book Club ma anche qua sotto sotto al podcast potete lasciare dei commenti e delle sollecitazioni rispetto a questo libro o anche magari delle proposte per le prossime letture grazie mille Alessandra grazie a voi grazie adesso quello che succederà è il prossimo mese Gabriella perché abbiamo scelto un altro libro in questo caso con un'altra protagonista femminile in effetti esatto si tratta andiamo sempre a pescare da Adelphi vabbè saranno contenti ma non è che hanno proprio bisogno di noi quelli di Adelphi però ecco diciamo che abbiamo si vede che è sintomo di qualità e andiamo a pescare tra l'altro sempre traduzione di Monica Pareschi Elizabeth di Ken Greenhall quello sarà il nostro libro per il mese di dicembre che leggeremo insieme un libro agile vedremo se anche nel contenuto sicuramente nella forma sicuramente nella forma e ovviamente sempre per commentarlo c'è il nostro gruppo Telegram e poi a fine mese uscirà il podcast con un ospite o una ospite con il quale parleremo del libro esatto sono molto curiosa perché uno dei titoli gotici più amati letti poi della della stagione praticamente passata in sostanza è uscito veramente pochi mesi fa abbiamo una nuova protagonista femminile una nuova strega è un libro che è stato descritto con una grande che incarna una grande sensualità lei è stata definita quasi come una lolita gotica ed è un libro che ha un sottotitolo anche abbastanza particolare perché viene Elisabeth il romanzo dell'innaturale quindi anche questo insomma ci stuzzica abbastanza perciò l'appuntamento è per il prossimo mese come Flavia vi ha già ricordato noi vi aspettiamo tanto qui nei commenti quanto sul gruppo Telegram noi vi ringraziamo per essere stati insieme a noi anche questo mese e non possiamo fare altro che augurarvi una buona lettura ciao ciao ciao